salve oggi voglio presentarvi questo nuovo modello di cuffie della casa luxebel viene venduto da simple tech e spedito da amazon è un modello di cuffie molto molto bello semplice ma accattivante nel suo design nel in questa piccola scatolina molto ben fatta innanzitutto avanti potrete potrete trovare tutte le varie i vari dettagli del prodotto in questa scatola dicevo potete trovare il cavetto usb per ricaricare le vostre cuffie due bustine con vari auricolari di ricambio e in più le vostre cuffie come vedete sono veramente molto belle il loro cordino in silicone morbido e verde quindi anche molto colorato ed allegro sulla cuffia destra dunque sulla cuffia destra possiamo trovare il tasto di accensione spegnimento e la regolazione del volume l'attacco per il cavetto usb per ricaricarle come vi dicevo sono molto comode io le ho usate per la mia corsa quotidiana quindi mi risultano molto comode e pratiche il suono è molto chiaro anzi devo dire che il volume è bello forte quindi rispetto ad altre cuffie le consiglio veramente tanto anche il prezzo è accessibilissimo potete trovarlo potete trovarle su amazon a presto con un nuovo prodotto